Sono nel pianoforte più o meno da, credo, sette anni e quindi ho fatto musica classica, nasco come cantante poi ecco, ho partecipato al programma televisivo Amici ed è lì, insomma, è nata tutta quanta... È il cinema che c'entra? È il cinema... C'entra o non c'entra nella sua vita? Quindi lei non è attrice o è attrice? Io non lo so più, nel senso, io mi sento più cantante che è attrice, però devo dire che fare questo film insomma è stata un'esperienza fantastica Ma com'è arrivata? Praticamente Massimo Boldi ha chiamato alla redazione di Amici la redazione ha chiamato me e mi ha detto Diana, guarda, c'è Massimo Boldi che ti vorrebbe sentire per un provino Ma perché proprio lei? Si è saputo poi? No, no, no Mi ha detto... L'aveva vista forse? Probabile, esatto, quindi... Sicuramente, quindi sono andata a fare il provino e... E tada! È stato un provino... Ma anche il fatto di fare il provino per me è stata una conquista quindi il fatto poi di aver... Ecco, com'è stato questo provino? Lo puoi raccontare? Sì, praticamente ho incontrato il regista che ho parlato un po' con lui prima Claudio Risi Claudio Risi, esattamente e dopodiché ho fatto... Ah, mi hanno fatto anche cantare mi hanno fatto cantare e poi mi hanno... mi hanno spedito un pezzo del copione, una parte l'ho recitata e... e con una telecamera e tada! Però lei non vuole fare l'attrice lei vuole fare la cantante o no? Guarda, Gigi, hai proprio ragione questa è una domanda molto importante perché io con questo... con questo ruolo nel film mi sono un po' confusa le idee perché effettivamente la cantante l'ho sempre voluta fare quindi fin da piccola io volevo fare un CD volevo essere come Cristina Aguilera come Britney Spears però adesso non lo so più io vorrei fare tutto per esempio un musical sarebbe il top perché è una mediazione perché è una mediazione, esatto tra il canto e la recitazione e il ballo pure mi piace un sacco ballare Ma lei per recitare non ha studiato? No, assolutamente è per questo infatti che mi sono molto sorpresa di questo fatto io non ho mai recitato in vita mia alle recite di scuola e basta mentre la musica lei la studiate? Mentre la musica... Anche il canto? Esatto, sì, sì, sì di me, insomma mia madre è cantante lirica quindi ho anche un po' acquisito la dote, se vogliamo dire da lei però mi sono... sì, ho studiato più musica in recitazione quello sì Quindi ora si sente ad un bivio o no? Esatto mi sento ad un bivio Chi sa come andrà? Esatto Secondo lei? Io spero che questo bivio si... Possa unire E poi si possa unire esatto e quindi ecco amalgamare il tutto quindi fa... Io farei tutto, guarda io adoro il mondo dello spettacolo Lo adoro Perché? Sono un po' egocentrica e lo sono sempre stata fin da piccola e ho sempre voluto cantare e far vedere ciò che sapevo fare alle persone per intrattenere per intrattenere e soprattutto per... perché sono sempre stata un po' insicura di me quindi per avere la sicurezza per sentire le persone cosa avevano da dire su ciò che facevo su ciò che amavo fare quindi la musica come cantare e recitare è venuto dopo adesso praticamente Quanti anni ha? Io ho 21 anni Che età è? Da qualche parte si dice solo i 20 anni hanno le ali è vero o no? Sì Perché? Hanno le ali? Hanno le ali Si vola a 20 anni Sì Io non lo so io mi sono un po' invecchiata perché per esempio io non vado a ballare come le altre mie amiche non mi piace la discoteca perché c'è la musica troppo alta non amo andare insomma non mi reputo una ventunenne del ventunesimo secolo Mi sono un po' vecchiotta per quanto riguarda E come si reputa? Come si reputa? Io mi reputo estremamente entusiasta della vita perché la vita mi ha ferito ma comunque adesso mi sorride quindi perché non fargli un sorriso anche anche lei La ferita allude alla separazione dei suoi genitori? Esatto i miei genitori si sono separati insomma le eticavano molto spesso Quanti anni aveva quando i suoi genitori si sono separati? 18 17 Quindi qualche anno fa non tantissimo Non tantissimo esatto però prima della separazione c'era tutta quanta questa situazione un po' turbolenta di loro che che urlava insomma è stato brutto perché io stavo stavo a casa quando loro Lei non è figlia unica Io ho un fratello esattamente di 23 anni più grande di me Quindi ha sofferto la separazione? Ho sofferto tantissimo Perché poi i figli soffrono quando i genitori si separano Sì specialmente in un modo cioè un conte che è stato un modo un po' meno brusco un po' meno insomma light però io ho visto tutto ciò che era la separazione quindi tutti i background che adesso non sto a dire però è stata un'esperienza molto brutta non riuscivo più ad andare a scuola non riuscivo più A proposito con la scuola come è messa? E' un studentesso universitario oggi? No Io appena ho finito di fare il liceo Che tipo di liceo? Liceo linguistico Ho finito il liceo linguistico e mi sono subito iscritta all'Accademia di Musica Ah no cosa sto dicendo? Sono andata a vivere a Londra per sei mesi perché volevo iscrivermi alla Royal Academy of Music lì a Londra per fare musica io ho sempre desiderato fare musica per questo che io non mi sono mai iscritta all'università perché l'università mi sembrava quasi una perdita di tempo Quindi è andata a Londra Esatto quindi sono andata a Londra a studiare musica ma le applications erano per il 2012 ho fatto un mio dio ma finisce il mondo nel 2012 non voglio perdere così tanto tempo allora ho detto senti me ne ritorno a Roma mi sono fatta l'esperienza a Londra così poi a Roma mi sono iscritta all'Accademia di Musica la St. Louis a Roma che è musica jazz così però non ho fatto in tempo ad andare lì a fare lezione perché mi hanno subito preso per amici e quindi sono entrata a far parte Amici non è arrivata per caso ha voluto frequentare amici no io non ho voluto frequentare amici io ero talmente avevo talmente paura del rifiuto del fallimento che una mia amica mi ci ha iscritto quindi un clio una amica mi ha portato per l'orecchio proprio a questo provino e mi ha iscritto lei al provino per amici quindi io ero talmente avevo tanta paura di non riuscire perché ho avuto tante porte sbattute in faccia da discografici ho fatto insomma amici non è che che è stata ah sì prende il microfono canta e entra subito no non è stato così ho avuto esperienze non belle perché ho cercato sempre di mi sentivo un po' mediocre pure in quel periodo quindi era insomma era anche un periodo un po' poi è arrivato amici esatto poi è arrivato amici quindi sono andata avanti con i provini vedevo che andavo avanti e mi hanno presa e quindi sono stata quello è stato il momento più bello della mia vita poi è arrivato il cinema come dicevamo poc'anzi ma tra recitare e cantare c'è differenza c'è molta differenza qual è? secondo lei allora secondo me allora cantare specialmente davanti a un pubblico se vogliamo fare tipo una cosa live non per quanto riguarda discograficamente stando in uno studio e registrare quando si canta si ha un immediato un immediato contatto con il pubblico il che io adoro il cinema invece come la televisione per esempio il cinema invece è diverso perché i tempi sono molto più lunghi quindi tu hai insomma la cinepresa che deve essere rimessa in un determinato modo tutto quanto l'atmosfera che deve essere a puntino deve essere tutta quanta analizzata e quindi ci sono i tempi un po' più lunghi e non si ha un contatto con il pubblico che a me piace tantissimo e quindi c'è molta differenza non so quale preferirei tra i due il musical ma che tipo di musical e che cosa le piacerebbe fare in un musical mi piacerebbe troppo fare Wicked anche se io lo dico perché non l'ho mai visto ma ho ascoltato le musiche che è un musical stupendo che adesso sta a Londra ma comunque fare anche tip tap mi piace molto infatti volevo iscrivermi a tip tap per fare un musical di tip tap e oppure la bella e la bestia che è il mio cartone preferito fin da quando ero piccola e me lo guardo anche adesso so tutte le musiche a memoria tutto questo suo voler fare questa sua passione come è stata accolta in famiglia dai suoi genitori per esempio quando lei ha cominciato a raccontare tutto questo ai suoi genitori a quanti anni a quanti anni no io fin da piccola dall'elementare quindi all'elementare io già cantavo già ero nel nel coro della scuola diciamo e facevo già le recite scolastiche tipo le per twist i miei genitori da subito hanno capito che avevo un'influenza artistica forse presa più da mia mamma che fa la cantante litica perché mi portava in giro anche con lei nei teatri quindi i miei genitori sono contentissimi quindi non hanno ostacolato questo suo desiderio assolutamente no anzi fanno di tutto quasi mio padre è un po' più rompiscatole perché mi dice allora Diana mi raccomando prima di tutto devi tenere in forma poi che in forma che io poi mi piace mangiare da morire quindi e mia madre invece è più tranquilla ma dai allora Diana stai tranquilla allora tu fai le cose che ti piacciono poi bisogna vedere come va se non va male chi se ne importa lo farà un'altra volta insomma ecco se non dovesse andare bene ovviamente non è questo l'augurio che le facciamo l'alternativa c'è o non c'è alla sua vita professionale l'alternativa il matrimonio i figli no no oh mio dio no i figli si mi piacerebbe un sacco avere i figli forse il matrimonio no perché avendolo vissuto con i miei genitori preferisco magari convivere piuttosto che oppure oppure non lo so essere fidanzata in modo serio oggi non sono fidanzata ieri si ieri lo è stata ieri lo sono stata domani lo sarà lo spero no non lo so è che io in questo periodo i ragazzi che mi vengono dietro non mi piacciono e ai ragazzi a cui vado dietro non gli piaccio o almeno penso per ora succede questo un po' a tutti eh sì infatti un po' poi si arriva un giorno e si scopre che si può piacere all'altro che ti piace esatto a me non mi è mai successo francamente finora però però spero spero che mi succederà un giorno Diana è il suo nome c'è un motivo legato al nome o no esatto io mi chiamo Diana del bufalo ah no Diana scusa come la data della caccia quindi mio padre ha scelto questo nome specialmente perché lui è un archeologo fissato con la mitologia greca e ha chiamato Mediana come la data della caccia e mio fratello Giano è come il dio Bifronte che ha due teste archeologo suo papà ma già architetto esatto esatto lui è laureato in architettura poi l'archeologia è stata una sua passione tremenda che poi è diventato un lavoro anche quello quindi ha lavorato anche nei beni culturali di Roma tra l'altro con Vittorio Sgarbia anche e lavorava anche in Egitto è stato tantissime volte in Egitto un po' Indiana Jones faceva io lo chiamavo ma dove sei per caso la mattina l'avevo visto no sto scalando una montagna in Egitto in Egitto mi è preso un colpo infatti però è stato divertente il suo lavoro Diana mondo della musica mondo della recitazione e quindi mondo del cinema mondo dello spettacolo in genere che cosa ha capito e che cosa ha ricevuto da queste sue frequentazioni da queste sue esperienze allora il fatto di essere andata in televisione e quindi anche mondo della televisione esatto esattamente il mondo tutto quanto dello spettacolo il fatto che io abbia fatto parte di un programma televisivo e il fatto che le persone per strada mi fanno i complimenti ha fatto a crescere moltissimo la stima in me perché io sono sempre stata un po' la pecora nera ma non si può dire neanche sono alta 1,80 m peso 73 kg credo quindi non sono neanche una lice insomma e sono stata un po' presa in giro anche alle medie mi chiamavano stampellona bisteccona una cosa del genere infatti sono sempre stata un po' un po' insicura di me poi il fatto di essere di essere andata in televisione è stato è stato molto positivo per quanto riguarda la mia vita insomma il mio auto la mia autostima e quindi sì e mi ha fatto crescere da morire anche mi ha fatto mi ha fatto imparare mi ha insegnato a conoscermi il mondo della televisione il mondo della televisione esatto il mondo dello spettacolo anche in tutto quanto esatto il mondo dello spettacolo e della televisione ecco ma televisione cinema mi ha fatto la mia autostima è stata